La riforma dello sport vista sotto la lente di ingrandimento dei diritti è la luce della recente normativa che è entrata in vigore lo scorso primo luglio, cancella i compensi sportivi così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi e introduce alcune forme di tutela. Ma qual è la situazione dei lavoratori sportivi a Taranto nella sua provincia? A fronte di tale cambiamento la CGL, l'SLC CGL e il NIDL CGL in collaborazione con la WISP Unione Italiana Sport per Tutti hanno intercettato atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici per fotografare la situazione attuale di chi lavora nel settore dello sport. Il questionario con 18 domande che servirà a costruire l'identikit del lavoratore sportivo Tarantino è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nella sede della CGL. Ci sono delle problematiche già che sono emerse rispetto a quello che è la qualità del lavoro che nel 90% è un lavoro precario fatto di collaborazioni e di contratti di co-co-co. Altro dato importante è che di questi lavoratori il 70% ed oltre sono donne e queste donne impiegano un periodo di tempo full time a questa attività lavorativa. Quello che interessa a noi è che finalmente questo lavoro venga riconosciuto. Il lavoro per lo sport è un lavoro che viene fatto con passione da queste persone ed è un lavoro che deve avere dei riconoscimenti. Questi riconoscimenti partono, io mi occupo del settore sia dello sport che dello spettacolo e in effetti l'idea del dopolavorista, cioè io già faccio un lavoro e poi a rotondo andando a suonare magari o andando a danzare o andando a lavorare in una palestra a nero. Questo è un'idea che deve essere cancellata perché nella nostra indagine anche abbiamo notato che qua parliamo anche di lavoratori che sono altamente professionalizzati. Cioè un istruttore ISEF ha fatto un percorso di studi che deve avere poi un riconoscimento anche a livello retributivo. All'incontro hanno preso parte anche l'assessore allo sport Gianni Azzaro e Antonio Adamo, presidente regionale dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Una battaglia che la UISP ha iniziato in tempi non sospetti e quando si riconosce un diritto a un lavoratore è comunque una cosa positiva. Quindi partiamo da questo, legge delega del 2019, emersione durante la pandemia di tutto quello che era un mondo che viveva di sport con tanti ragazzi che hanno iniziato a pubblicizzare loro stessi affermando proprio di vivere di sport. E quindi questa cosa l'accogliamo ovviamente in maniera positiva. C'è ovviamente da monitorare, da capire che impatto può avere sul mondo dell'associazionismo sportivo di base e come si può poi eventualmente integrare quelle correzioni a favore di quel mondo.